Allora Max, avanti 2-0 in questa gara 1 dei quarti di finale, poi è venuta su Milano, 3-7 vantaggi dove sono stati specialmente nel punto a punto più bravi di noi, poco da dire, il risultato parla chiaro, è una sconfitta che è pesante, non è finita, però adesso andiamo a Milano con un solo risultato. Sì, innanzitutto questi sono i play-off ed è sempre difficile affrontare qualsiasi avversario. Oggi abbiamo perso perché abbiamo meritato di perdere e non c'è tanto da dire, quando gli altri sono più bravi di te bisogna riconoscerlo. Siamo partiti bene, abbiamo giocato due set non benissimo, è vero che abbiamo chiuso con dei parziali ottimi, però non abbiamo giocato bene neanche i primi due set, poi siamo calati, tanti errori, tutti fondamentali e niente, abbiamo perso la pazienza perché nel primo punto bisogna avere pazienza, perché giochi contro avversari forti, devi giocare le azioni lunghe, noi abbiamo perso la pazienza prendendo qualche murata di troppo, qualche battuta in rete di troppo e poi la partita è girata e ha vinto l'oro, c'è poco da dire. Senti, ora domenica abbiamo un solo risultato perché la serie è due su tre, come si ricaricano le pile in quattro giorni? Non c'è bisogno di ricaricare le pile, noi stavamo bene fino a un'ora fa, quindi stiamo bene anche adesso, abbiamo perso perché abbiamo mollato il livello di testa e questo non deve succedere. Semplicemente ci sono due partite da vincere, si va per vincere, non si ricarica, non bisogna fare niente, bisogna giocare a pallavolo, metterci la faccia e appunto basta, dimostrare sul campo che siamo più bravi, siamo più forti, perché poi per fortuna in questo sport, ma nello sport in generale è sempre il campo che parla, noi fra qualche giorno dobbiamo farlo parlare. Grazie Max. Grazie. Grazie a tutti.